Siamo al Panteon di Corso Matteotti a Vercelli, è terminato il derby tra Novara e Pro Vercelli, è terminato per 1-1, siamo con gli amici Carlo Monzeglio e Enrico Rosso, e con loro commentiamo questo risultato, un punto per la classifica della Pro, la Pro che ci aveva fatto sognare in avvio di gara con la bella rete di Manuel Scavone, ma una Pro che è stata immediatamente raggiunta, due minuti dopo, dal pareggio del Novara. Carlo Monzeglio, come hai visto questa partita, come hai visto la Pro? Diciamo che è un punto che se sabato si fosse vinto era oro, purtroppo come è andato il sabato, oggi è un punto che non ci può dare un gran che, però c'è la speranza che se si mette un pochettino di impegno, un po' di volontà, un po' di tenacia, un po' di cattiveria, non come quella che ha messo Rosti, perché non si possono fare dei falli così, ed è l'ennesima partita che finiamo in inferiorità numerica, questa è una cosa da valutare, non è solo la presenza degli arbitri che è a nostro sfavore, ma c'è anche qualcosa per cui non è possibile pensare di continuare a andare in inferiorità numerica tutte le partite. Quindi su questo Foscherini deve valorare. Però, ripeto, è un punto che in questo momento non serve a niente. Vedremo se poi nel prosieguo delle altre partite può venire fuori qualcosa di positivo. Ecco, l'amico Carlo ha anticipato quello che è capitato, quello che è accaduto, cioè l'espulsione di Faustinio, di Fausto Rossi, entrato da pochi minuti, e che per un fallo da dietro è stato sanzionato immediatamente con il cartellino rosso. Una decisione che tutto sommato potrebbe apparire agli occhi di qualche commentatore, di qualche tifoso, forse un po' eccessiva, però è vero che la Pro da troppo tempo conclude le partite in inferiorità numerica. Questo è veramente un punto su cui lavorare. Al di là di questo, amico Mario Enrico Rosso, un commento sulla partita che ha visto la Pro uscire dallo stadio Piola di Novara con un punto. Per me il punto va benissimo. Basta non perdere. Se noi avessimo pareggiato le cinque partite che abbiamo perso per 1-0, avremmo portato a casa cinque punti. E cinque punti e i 28 farebbero 33. Comunque, un punto va benissimo, noi dobbiamo vincere. Dobbiamo non perdere a Vicenza, avere in casa vincere col Modena, vincere con Lascoli e vincere quelle partite lì. E restare sempre agganciate alla sest'ultima. Il nostro obiettivo è quello. Inutile dire 50-48-46. Noi avremmo anche sulla sest'ultima. E essere agganciati alla sest'ultima, all'ultima giornata, all'ultimo minuto, perché nel nostro DNA noi dobbiamo tribulare fino alla fine, come si dice in dialetto, fino al 95esimo dell'ultima giornata dobbiamo tribulare. Ma ci salveremo. Grazie, grazie Manerico. Dunque, allora abbiamo già lanciato la prossima gara, che sarà una gara infrasettimanale a Vicenza, una diretta concorrente per la salvezza. È un punto che certamente fa morale e fa classifica nella gara di Vicenza. Saremo senza Faustinio, rientrerà Pigliacelli, credo sì. Esatto, sì. Ma, ritorno a Pigliacelli, diciamo che il Melgrati, su cui io contavo molto, ha dimostrato qualche titubanza. L'emozione dell'esordio. Sarà l'emozione dell'esordio, però non mi è sparso ancora maturo per la Serie B. Forse è anche una difesa che in qualche caso non ha dato quella sicurezza necessaria ad un portiere che era l'esordio, tra l'altro in una partita complessa come il Derby. Esatto, soprattutto, mi piace doverlo dire, ma Colì ha peccato in molti momenti. È vero, è stato però protagonista di quel gran recupero su Gonzales. Non lo metto in dubbio, però ha anche fatto alcune paperette abbastanza evidenti. E quindi, adesso siamo attesi alla gara di Vicenza, dopodiché riceveremo il Pescara e poi andremo a Bari. E poi andiamo a Bari. Però, ripeto, il punto va benissimo. Bisogna muovere la classifica, non bisogna perdere. Perché poi, anche il Vicenza, domani va a Crotone. Non è che ce l'abbia proprio di lusso. Il Modena non so dove va, non mi ricordo dove va, però l'abbiamo agganciato. Poi il Modena ce l'abbiamo in casa. E quelle le partite che noi dobbiamo tirare fuori il coniglio dal cappello per salvarci. È vero, tra l'altro, della partita di questa sera noi potremmo definire i migliori per la Pro. A me non sono dispiaciuti, anzi sono piaciuti a Emanuello, finché comunque il fiato ha tenuto. Lo stesso si può dire anche comunque di Malonga, che ha giocato una discreta gara per quello che ha potuto nella fascia offensiva. Carlo, tu come hai visto? Anche Bani. E anche Bani che in difesa ha svettato. No, no, sì. Diciamo che alcuni giocatori stanno confermando le loro aspettative su cui avevamo. Ripeto, Malonga per me, anche se molti dicono che non è un giocatore da Serie B, io vedo che ha un trattamento di palla che pochi possono averlo in questo campionato. Quindi per me Malonga può essere un punto favorevole per la nostra squadra. Grazie Carlo, chi ti è piaciuto di più nella propria squadra? A me sono piaciuti Bani, mi sono piaciuti anche parzialmente Germano, non mi è dispiaciuto Asprazzi e Emanuello e poi continuo, io sono un fanatico di Scavone. Eh beh, sì Emanuele Scavone, grandissimo. Per me in campo il vero capitano è Scavone. E' quello che dai tempi, al di là di Budel e Mammarella un po' sottotono, che giocano ad esperienza, ma quello che veramente, anche sabato scorso, al 91esimo, cercava ancora di spingere la squadra in attacco, è Scavone e il Mauro in quello. Bene, allora con questa considerazione dell'amico Mario Rigoroso chiudiamo la puntata di Corner con il nostro consueto. Forza Pro, Forza Pro! Ciao!